Benvenuti al Parco Carrara Villa di Serio. Facciamo un giretto, sabato pomeriggio. Oggi è giorno... che domande che faccio a mia moglie. 28, 29. 28, 29, è luglio. Fine mese, fine mese. Parchettino, lo esploriamo oggi. Ecco. Non c'è sognanti. Olivia è caduta. Normale amministrazione. Non correre. Normalissima amministrazione. Abbiamo trovato una carrucola. L'unico problema, Tommaso è rimasto completamente deluso. Fa troppo piano. Vediamo. Tutto qua? Io peso. Fica un bel po'? Sì, ma non... ci sarà poca pendenza. Non è che da ora in po' dobbiamo fare le recensioni delle carrucole, ma questa. fa proprio schifo. Non cammina assolutamente. Parco no buono per carrucola. Bisogna avere molta pazienza. Molta pazienza. Questa sera abbiamo una cena con amici. Oggi pomeriggio siamo usciti che avevamo un caldo, la miseria. C'è un caldo a casa. Tra un po' partiamo. Andiamo in vacanza. In Puglia. Vi terremo aggiornati. Puglia si mangia bene. Fantastico. Delicata, miei figli. Pronti? Via! Ciao! Ciao! Non vuoi rimanere qua? Buio. Molto buio. Così ecco ci siamo ripresi. un parchettino molto piccolo. Nulla di particolare, però si sta bene. Aria fresca. Normale. Tenuto bene. Tommaso che porta l'overboard, porta il passeggino con l'overboard. Overboard. Ora ci prepariamo a entrare di nuovo in macchina. La carovana. 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 Chiama forte. De! Forte! Papa! Ciao! Forte! Fortissimo! Papa! Ma cosa succede ragazzi? Io te l'ho chiesto mille volte. Che cosa? Lo stavo parlando. Perché? Ma cosa? Ma io ho visto che io chiedo le cose mille volte. io dopo mi metto a spingere no e nessuno fa mai niente così per sapere perché se per essere ascoltata devo spingere allora basta ragazzi vi rilanciate per favore dai che andiamo forza tommaso ti si è messa la cintura per cortesia parchettino no alberico scritto ok stasera costine con patatine fritte fa caldo eh devo cucinare io vabbè siamo arrivati a casa i bambini si stanno facendo una doccia io inizio a cucinare costine e patatine fritte stasera ci facciamo del male ma molto male nel frattempo accendono zampirone perché qua le zanzare a me mi ammazzano mi fanno male incredibile è pazzesco avrò sangue buono boh non lo so comunque che è caldo cucinare con i fornelli salvaci la vita ti prego prendi quelle due quella grossa di vetro e quella di ferro e alluminio ottimo lavoro perfetto qua dentro ci mettiamo le costine e qua le patatine via operazione co costine costine pentole quale? una e una e una guarda qua che bellezza wow allora un filo d'olio operazione patatine operazione patatine? direi direi ok Tommaso apparecchia adesso mettiamo i piatti in tavola finito wow wow costine operazione patatine ciao tutto bene? io sono un po' accalzato per questo cucina cuoco? si ciao 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 ragazzi non è un documentario ne? bisogna parlare durante il vlog non è che facciamo vedere le montagne ma dici che parlo sempre troppo? allora alvia le patatine un altro eh 3 famu una pi sette nel dec a set dai di 3 famu una pi sette nel dec a set 8 nel mercato 9 le 9 2 3 3 3 3 3 che fa sedes? in che posto? è un'aquilana dico ha capito tutto anche io è un'aquilana? Olivia sei col blackberry? patatine 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 6 4 3 2 Grazie a tutti